E' nel cuore della regione Liguria, la regione dove è nato il pesto, che alla fine degli anni 80 a classi inizia a svilupparsi con una produzione artigianale di pesto di altissima Una grande determinazione unita ad un innato senso della qualità hanno portato l'azienda ad essere oggi una realtà industriale riconosciuta su tutti i mercati nazionali e internazionali come leader della produzione del pesto nel mondo Per CLASS il controllo qualità è un cardine fondamentale Difatti disponiamo di un team di esperti qualificati che controllano ogni fase della produzione ma non solo, quindi dalla ricezione delle materie prime fino all'etichettamento Un altro punto di forza di CLASS è la posizione geografica Questo in quanto CLASS si trova in Liguria, la regione dove è nato il pesto Il segreto del nostro pesto è la selezione delle materie prime CLASS, infatti, seleziona i propri fornitori e utilizza solo fornitori qualificati e certificati Questo per ottenere sempre una qualità costante e massima Il nostro pesto contiene solo ed esclusivamente il basilico genovese di OP Un basilico che può crescere solo in Liguria e secondo i canoni dettati dal disciplinare del basilico genovese di OP L'utilizzo principe del pesto è sulla pasta, quindi profie piuttosto che mezze pelle Ma stiamo riscontrando in vari paesi anche utilizzo per tartine, aperitivi, anche insalate, bistro Fiorfiore ha trovato in CLASS un partner affilabile che garantisce qualità e tradizioni Da molti anni produciamo prodotti di qualità secondo le ricerche della tradizione portando sulle tavole di tutto il mondo l'autentica cultura gastronomica italiana Grazie a tutti Grazie a tutti